a auto non riesce in violenza il evento è un'unica del suo inglese il suo buon divertimento a me grazie attuale ragazzi benvenuti a un nuovo gameplay dei maltrane senni cominciamo con un'auto la stella ragazza che è stato via per almeno un mese e mezzo quasi due ma o c'avevo da fare i miei esami di maturità ora sono tornato e riaccomi qua cominciamo outlast vediamo un po' cosa c'è da fare c'è praticamente qua in outlast dove siamo stando scappare non possiamo difenderci bene vabbè Vabbè Ovviamente le comunicazioni partono ogni volta che ci avviciniamo a questi posti Bene Cos'è? Mont Massiv Asilium Fantastico Ah, documento Eh ragazzi i documenti non li leggo perché è tanto inutile Le batterie e la telecamera Ma la telecamera figata cos'è? Vediamo un po' Ho più una telecamera bestiazza Ho pure gli infrarossi Bel gippone Ok, cominciamo Gli obiettivi vengono ragionati Ah, scusate se viene un po' sfasato così però Evo, permettete Io non ce le ho Le legato per registrare Non ce le ho E allora mi arrangio col Ecco, ovviamente si chiude il cancello Mi arrangio con A tube catcher Con un colpo, una porta No, la coperta si fa così Che cazzo deve andare a prendere un R1 Vabbè, perché lo sappiamo tutti Ah, i documenti Questi cose che facciamo noi Cioè i documenti se volete leggerli fate pausa Ecco ancora Che palle Chi c'è? Ehi! Luce si è spenta Oh, madonna Mezzi militari Vabbè Mount Massive Asylum Cioè, apriamo Chiusa Ah, già Ci toffono magari Pronto? C'è nessuno Qui è data con onda 4 Deve andare per fare un gameplay Scusate C'è nessuno Anzi, sono della televisione Sono della Mailset Devo fare Un programma televisivo Su questo Manicomio Sono della Mailset Sono di taglia 1 C'è nessuno? Oh Niente Ciao Entriamo da noi C'è qua Chiusa Ci sarà un modo per entrare Mi sento pure i rupi urulare Porca miseria Fontanella Che bella Uh, degli appalti Ancora Nananana Opla Madora Fia che musica La luce Non vedo niente Ricorda Gli inferosi Non sono batterie Usali con criterio No, invece io li uso Quando cavolo mi pare Permesso C'è nessuno Madonna Che è successo? Stanno Stanno ristrutturando Stanno dando una pulizia Oh porca miseria Quello lì in fondo Sbaglio la sangue Oddio Il televisore non va Che marca è? Mo Morin Che marca Mi hai mai sentito? Ho già messo un Samsung LG Questo qua Morin Che cacchio è Morin? Le batterie Ricordatevi che le batterie Sono vitali In questo gioco Fischia sangue Fischia sangue A volontà Tirei fuori ovviamente Non vanno Come di sempre Che palle Ehi Aspetta Mi scappa da cagare Dove venire anch'io al cesso Ma vabbè Me la tengo Ciao Oddio Ciao Passiamo per Le condutture Che cavolo Sembra un necromorfo Eh amico Stai calmo Cos'hai Mamma mia Vaffanculo Mi ha spaventato Mamma mia Che cacchio è? Oddio Oddio I Predators Cazzo Sono in mezzo a noi I Predators Oddio I Predators Cazzo L'hanno infilzato come uno spiedino Mamma mia Mamma mia andiamocene via Oddio Oddio chi era quello lì? Mamma mia che paura Di qui? Eh? Ma che cazzo? No! Lasciami! Lasciami! No! Oh mamma mia che botta Oh ragazzi Chi sei te? Se io con la torcia a flasharmi A flasharmi va Oh mamma Oh mamma mia Oh mamma mia roba no no l'uscita è bloccata per cui devo sbloccare i comandi di sicurezza bene andiamo a trovarli e sblocchiamoli tutti un documento cos'è? Markov Corporation deve essere questa la grande la corporazione che ha fatto tutto questo bordello mi sa di si mamma mia li hanno sbudellati come dei maiali oddio 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 che paura qui c'è sì no la cagare ormai non mi scappa più me la tengo no potrebbero servire visto che fra poco mi cagano addosso batteria ehi chi è che ha chiuso la porta? chi è che fa questi scherzi di merda? security ecco qua chiusa chiave elettronica e dove la vado a prendere? amico cosa ti hanno fatto per ridurti in quel modo? guarda guarda chi è che cosa ha tanta di prima chiusa l'uscita è chiusa perché è chiuso perché è entrato prima l'amico dove dobbiamo andare? forse qui no niente io non ci vado qui è chiuso e poi è buio io c'ho paura del buio vediamo vediamo un po' eeeh ah un registro ovviamente sono illuminati c'hanno le torce messe dentro siamo nella oh futuro per sbirciarli mi vado alle due ore due si non serve a molto perché tanto se l'amico mi vede mi vede è un po' inutile amico cosa hai fatto alla faccia e agli occhi? te l'hanno ricucita? oddio va va visto? visto? visto a stare sempre a guardare la televisione una folla di uomini devastati che guardano la tv sullo schermo ho visto cosa succede a guardare la televisione ci si rincoglionisce bravi visto ragazzi ricordatemi non sarei troppo tempo sulla televisione ah grazie si 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 lo so lo so ma tanto non li sto a leggere ma porca ma lascia il bastardo mollami mollami ma vada via più bastardo mamma mia che gente pazza via 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 chiudi prima che arrivi poi matti mamma mia sblocchiamo sti cosi ecco sblocchiamo la sicurezza ok però anche su facebook chiedi un messaggio qui parla di isa 44 ho bisogno di aiuto immediato però vedo che i monitor funzionano ancora eh no no ecco che cazzo oh porca trovi il grassone di prima madonna io ho paura madonna arriva arriva il cazzo di isa seguente è chris walker si scusate ragazzi che non l'avevo letto però e dai che aspetti ad andartene meno male se n'è andato ora via andiamo a riavviare il generatore subito mamma mia che paura mi stavo inseguendo lì te piega allora il semi terrato è qua si dov'è la porta ah no ecco la qua l'hanno aperta li chiudo aspetti che arriva il ciccione nessuno non c'è nessuno ci sei solo te prima prima attiva le tue pompe gas e l'interruttore vaffanculo ciao vediamo dove sono ste pompe ok una oh merda arriva qualcuno via via sotto 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 sasconditi oh oh ragazzi allora ecco madonna via ma visto ma visto vai di qua di qua via 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 mamma mia corri fuga rapida salta la porta salta la porta interruttore tiralo su tiralo su bene dentro 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 madonna arriva ragazzi attenzione che sto per fare una cosa pazza pronti via ciao faccia di merda no io non voglio vedere nulla di tuo via 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 voglio farti vedere una cosa no non voglio vedere nulla so già cosa mi farei vedere tuo bastone che me lo infili nel culo ecco cosa mi vuoi far vedere via riattiva la corrente riattiva e ora fuga via corri brutto sfigato via 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 ho un documento c'è sempre tempo per quello via che cazzo vuol fare un mazzo così mamma mia chi era Hol collect vabbè almeno c'è di nuovo la corrente attiviamo i sistemi di sicurezza e via sto posto di merda no aspetta dove cazzo sto andando devo andare una cosa la sicurezza Non è che saltiamo lì fuori Little pig Ciao They lie Mamma mia Fatemi uscire da qua No che cazzo no 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 Ecco Che cazzo Ore sfigato